buongiorno a tutti e bentrovati alla rubrica domanda risponde oggi parleremo di docenti ingambiati tra mobilità e incarichi di supplenza domanda numero 1 mi interessa sapere se per i docenti di ruolo verranno attivate le procedure di percorso abilitante per ottenere una nuova abilitazione all'insegnamento in modo da poter far passaggio di ruolo dalla scuola primaria alla secondaria al momento la situazione dell'avvio dei percorsi abilitanti per i docenti di ruolo che vorrebbero abilitarsi per altro grado di istruzione rispetto a quello di titolarità sembra procedere a rilento nei prossimi giorni ci saranno degli incontri tra in due ministeri il ministero del dell'istruzione del merito il ministero dell'università della ricerca che sono interessati alla vicenda per provare a sbloccare la situazione inoltre per i passaggi di ruolo bisognerà prevedere caso mai sia possibile di presentare domanda con riserva visto che appare improbabile il poter avere l'abilitazione già per marzo 2024 ma questo non è diciamo di facile esecuzione perché non è mai successo prima che alla scadenza della mobilità che si prevede intorno ai primi di marzo o comunque alla metà di marzo si possa partecipare senza titolo con riserva sarebbe una novità domanda numero due per due anni ho usufruito dell'articolo 36 del contratto collettivo nazionale scuola 2006 2009 lasciando la mia titolarità alla scuola primaria per in piemonte per avere l'incarico annuale da gps prima fascia per la classe di concorsa 0 41 in calabria potrò sfruttare per il terzo anno consecutivo questa opportunità richiedendo anche spezzonina 0 41 allora diciamo che con l'articolo 47 del nuovo contratto collettivo nazionale scuola 2 2019 2021 le cose sono leggermente peggiorate rispetto alle norme contrattuali degli anni precedenti incominciamo a dire che l'articolo 47 suddetto abroga l'articolo 36 del contratto collettivo nazionale del 29 novembre 2007 e lo peggiora nella parte dove si sottolinea precisamente al comma 1 dell'articolo 47 del contratto 2019 2021 che la suppensa con incarico a tempo determinato si possa avere solo sul post intero e quindi non concedendo spezzoni cosa che invece prima era diciamo possibile fare dunque la titolarità permane solo per un triennio quindi potrà sfruttare tale opportunità ancora per il 24 25 ma solo per incarico annuale o fino al termine le attività didattiche ma su post intero quindi si stava parlando di una 0 41 dunque la cattedra almeno di 18 ore vediamo alla terza e ultima domanda di questa edizione di a domanda risponde il dpcm 60 cfu del 4 agosto 2023 fissava le date di conclusione dei percorsi abilitanti entro il 28 di febbraio 2024 quelli da 30 cfu e dentro il 31 maggio 2024 quelli da 60 cfu le date sono rimaste quelle oppure si prevede uno slittamento in avanti teoricamente le date sono solo a livello normativo sono ancora quelle del 28 di febbraio e del 31 maggio 2024 ma sicuramente ci sarà un netto slittamento in avanti che è prevedibile considerare almeno un paio di mesi si attendono modifiche legislative sulla data di conclusione di questi percorsi diciamo siamo ancora un po in alto mare per diciamo consentire a docenti anche quelli ingabbiati di poter avere l'abilitazione per poi sfruttarla successivamente potrebbe essere magari che questa abilitazione possa essere sfruttata nel caso di assegnazione provvisoria anche in più discipline speriamo che le risposte date siano diciamo di aiuto ai nostri telespettatori seguiteci ancora perché andremo a toccare questi argomenti della mobilità degli incarichi annuali da gps prima fascia anche per i docenti di ruolo nelle prossime dirette e nelle prossime edizioni anche di a domanda risponde arrivederci